musica 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 ma che fai? scusami, non volevo, perdonami chiedimi scusa subito scusami risolviamo la cosa come farebbero due persone adulte ma che posso fare? che cosa fai nella vita? faccio pizza di dove sei? Napoli ok, ho un'idea questi sono tre tipi di piccante dobbiamo mangiare insieme chi di noi due beve per primo i latte? perde perde e cosa succede a chi perde? Abdul oh shit lui è Abdul 38 e 38 non è la sua età chi di noi due perde farà l'amore con Abdul una notte intera non faccio l'amore da dieci anni Jesus is Lord ma a e e e e e e L'ultimo, c'è pronto? Ho un regalino per te Ma questo è un disegno Che cosa serve? Da adesso in poi non ti chiami più Tai Ti chiami Taiyana Mi chiamo Taiyana Non mi chiamo Taiyana Non mi chiamo Taiyana Non mi chiamo Taiyana Ma questo è un'altra cava